Qui la Europe TV, torre di controllo. La signorina Monica Piccirillo, da qualche mese direttore dell'aeroporto italiano di Linate, scopre che all'aeroclub Milano, delegato alla gestione dell'aeroporto di Bresso, banca una lettera di autorizzazione dei servizi antincendio da parte dei Vigili del Fuoco. Il comando dei Vigili del Fuoco avrebbe dovuto inviare all'aeroclub questa lettera già da mesi, ma per un disguido questa lettera non è mai partita. Si tratta solo di un atto formale e l'aeroporto opera da anni. Gli stessi Vigili del Fuoco hanno istruito il personale antincendio del club e controllato e collaudato le attrezzature esistenti, ma formalmente questa lettera è indispensabile. Che cosa fa allora la signorina Monica Piccirillo? Chiude l'aeroporto di Bresso e di conseguenza blocca l'attività della scuola di volo e sequestra tutti i velivoli privati. E come non bastasse, blocca persino l'attività degli elicotteri del 118, l'emergenza di Milano che opera proprio qui da Bresso. Forse l'editto della direttrice rientra nei suoi doveri, ma questo fatto dimostra ancora una volta lo stato devastante della burocrazia italiana. L'editto della direzione di Linate lede i diritti fondamentali di alcuni cittadini, i soci, gli allievi della scuola, i lavoratori a rischio di licenziamento, i proprietari degli aeroplani. E mette in crisi il sistema di emergenza della città di Milano. Il tutto per un atto soltanto formale. Che cosa avrebbe fatto un qualunque funzionario di un altro paese? Avrebbe fatto una telefonata. Una semplice telefonata al comando dei vigili del fuoco e tutto si sarebbe risolto in pochi minuti. La burocrazia. Ecco la vera tragedia dell'Italia. Entro e non oltre. Qui, torre di controllo, passo e chiudo. Torre di controllo, CPS 2019, Helios. American 11-11, descend e maintain, 5,000. 5,000, American 11-11. Farewings 3-13, contact approved, 127.07 today. If he says 1 o'clock, we're getting some heartache. 702.07. Oh, yeah, that's right. Dangerous. . . A presto.